Salve, ben trovati con Sport News, l'approfondimento sportivo di Cilento Channel, puntata come potete vedere della mercoledì, sono state variazioni nel palinzesto e solo per questa settimana, comunque non cambierà niente, parleremo della giornata sportiva appena trascorsa con me, come ogni lunedì, martedì o mercoledì in questo caso c'è Sergio Esicchio. Ciao Sergio, ben trovato, parleremo di Agropoli, parleremo di Gelbison, parleremo di eccellenza, a cui la città di Nocera manca solo un punto per la matematica vittoria del campionato, quindi salire di categorie e andare in serie D, categorie che le compede di più, parleremo del basket Agropoli che ha matematicamente raggiunto i playoff e di altro ancora. Sergio però, come al solito, la domanda fuori contesto, notizia in questa settimana, si è fatto un gran parlare, te ne devo fare tre in una, l'argomento è Conte e la Federazione o la Lega, per Conte sono stati chiesti sei mesi di reclusione, chiedo a te, non è esagerato come richiesta di DPM sei mesi di reclusione per quello che ha fatto e poi una CT di missionario? Si può fare appello alla professionalità prima di, diciamo, affrontare un europeo, penso sia una cosa onestamente da poter dire, e poi che Conte va a visitare il ritiro del Chelsea e la Presidente da vecchio non sapeva niente. Allora, veniamo al primo punto, i sei mesi e la richiesta del PM, e quindi non c'è… La richiesta di sei mesi di reclusione, e poi bisogna fare un processo per vedere se lui… Però la difesa ha fatto le contradduzioni e ha detto che gli devono pagare pure i danni. Alla fine, sì. Però questa la stampa non te l'ha detto, è volutamente. Ah, per questo ho chiesto a te. Sì, non te l'ha detto perché la stampa, come sai, è ormai la nostra, è una stampa drogata, una stampa che non ha vergogna di agire in maniera subdola e in maniera travaglina o travagliesca, che ormai il travaglismo in Italia impera, o impera, come volete voi. E allora, una richiesta di un PM non è né una condanna, né un tentativo di condanna, è una richiesta dell'accusa. Quindi è inutile che vogliamo… Perché è servita questa richiesta di sei mesi, pubblicizzarla in questo modo? Il Sato Quattroforte ha fatto appoggiare… Eh sì, ha fatto… Ad arte, diciamo. Ad arte, come si diceva con Berlusconi, a orologeria. Perché? Perché in Inghilterra, come sai, è vero che sono garantisti, ma è anche vero che sono alla ricerca dello scandalo continuo e costante, i tabloidi appuntano, e allora, dato che lui ha firmato ufficialmente con il Chelsea, il giorno dopo è arrivata la richiesta, o meglio, la richiesta è arrivata molto prima, però è stata pubblicata… Quindi Conte non è ben visto a quello che mi dici tu, nel senso… Il primo a non ben vederlo sono io, non lo stimo nemmeno un po', però io sono garantista e allora ritengo che Conte… Per coerenza, diciamo. Ma a parte per coerenza, io non credo che Conte, per come io ho visto lavorare, per come lo conosco, possa aver saputo di una combina e non averla denunciata, perché questa è l'accusa che si fa a Conte, è una messa denuncia, non è che questo abbia venduto o comprato partite. Il problema è un altro, ed è di carattere etico, si fa tanto parlare della richiesta di rinvio a giudizio di Conte, ma non si parla che l'accompagnatore, il dirigente numero uno della nazionale è un condannato… E perché secondo te? …è Oriali, perché Conte viene dalla Juve e allora tutto ciò che viene dalla Juventus deve essere giustizialismo, vergognoso giustizialismo. Oriali è condannato a sette anni di carcere, in via definitiva, cioè il terzo grado di giudizio. Lui non si sta scondando perché sette mesi sono la condizionata. Quindi ci vogliono due anni e otto mesi per andare in galera. Quindi se lui dovesse fare ancora quello che ha fatto, quello è quello. Quindi lui è un condannato, realmente un condannato, ma oggi non lo è condannato. Quindi… Eppure è inibito a… No, là è la giustizia… Sì, sì, è penale, sia quella sportiva. È quella sportiva. E un condannato penale per la giustizia sportiva non è condannato. Certo, certo. E di cosa stiamo parlando? Per quanto riguarda le altre due cose che mi dici, la seconda era… La seconda era, nel senso, un allenatore prima di un evento così importante come l'europeo può annunciare le sue dimissioni? Lo ritieni un atto di onestà o magari come tempistica poteva, magari, anche se era tutto fatto, annunciarlo dopo? Nel Cilento e nel lontano Medioevo avremmo detto se ne devi andare. Certo. Ma non facciamo i medievali. Non facciamo i medievali. Tu devi fare alla professionalità. Cilento ha un contratto firmato fino al 30 giugno e al 30 giugno le state si dividono. Si rispetta, i contratti sono scritti e sottoscritti per essere rispettati. No, dico la professionalità. Pensi che magari… Ma sicuro quei livelli, Carlo. Ma che se si gioca il giovedì e non vogliono perdere. Certo, certo, certo. La professionalità. Poi, però, Tavecchio, quando andò a fare visita al ritiro del CES, ha detto che non sapevo niente. Non deve sapere. Ah, si dica sempre che essendo il capo, tra virgolette, di Conte… Ma chi deve sapere? Io, fuori dall'alveo della federazione, io non devo dire niente a nessuno. Io vado a visitare il Celsi come i templi di Pestum o come gli scavi di Ercolano. Chi me ne frega a me se lo sa o meno. Non è che ha disatteso un appuntamento con la nazionale per andare là. C'è andato magari quando… Io dico che il disappunto invece è per Hiddink, l'attuale allenatore del Celsi. Del Celsi, sì. Anche quello, sì. Se non c'era l'accordo, però, sembra che proprio Hiddink l'abbia accompagnato. Ah, proprio a visitare. È male lo stile british, sai che… È capito, quindi è inutile che ci giriamo intorno. Se noi vogliamo andare a trovare il pelo dell'U, i problemi sono altri, sono di ben altra natura. E in questa settimana ne abbiamo viste l'esonero di Mikhailovich, per quanto giusto… Ma sto Brocchi però era un pallino di Berlusconi. Non so perché, sinceramente. Cioè, Brocchi, Brocchi, sono due… Ma perché si fa la formazione? Zambarini non ne parliamo proprio. Ma Zambarini oggi ha detto che ha fatto un solo esonero. Sono otto esoneri. Sì, tredici sono andati da loro, tipo Schialotto e cose… No, io poi vorrei sapere, vorrei sapere che cosa fa Sorrentino, che andò in televisione e andò a dire che ho esonerato io a Ballardini. Sì, come si presenta lì? Ma se Ballardini avesse gli attributi, la prima cosa fuori c'è Sorrentino. Ma lui l'aveva fatto e dice che arriva proprio il presidente a dire no, 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 fai… Tra l'altro il secondo portiere del Palermo è anche un bravo giocatore, un giovanissimo tra l'altro, ma magari alla fine… Poi se il Palermo che partita farà a Torino… Bravo. Ah, ti faccio l'ultimo e poi parliamo di Agropoli e di quello che dobbiamo fare. Questo fatto incattiverà il Palermo, può dare una scossa positiva o magari è totale confusione, quindi si presenta una scoppola epica. per il Palermo a Torino. No, no, non ci pensare. La Juve faticherà le sette camicie, le cosiddette proverbiare sette camicie per vincere la partita e non so se la vincerà. C'era la spinta di Pocco Banzo a Ballard? Sì. Ah, è vero, tu l'hai detto, è vero, l'hai scritta, l'hai scritta, l'hai scritta. Per me è lì e fallo. Però qualcuno dice che un difensore deve difendere, alla fine è una piccola spinta, Rella. Ma non è una piccola spinta, lui lo estromette dall'azione. L'onestà, parolone di Sergio. Perciò io mi faccio una belva quando si parla senso unico sulla Juve, contro la Juve. Allora, andiamo a vedere le cose a favore, ma andiamo a vedere anche quelle contro. Io non ho nessuna difficoltà a dire che io arbitro, devo punire con un calcio di punizione quella spinta. perché non è una spinta insieme. Quella gli ha dato la spinta e non è potuta intervenire. Non l'avrebbe presa da Pocco Banzo. Ci sarà anche poi in seno magari a battle non accentuare. Nessuna ingenuità e fallo. Bene, abbiamo saputo il tuo pensiero. Passiamo ai fatti. E poi mi fa piacere che ha dato il gol, perché? Che non l'ha vista, perché a noi, alla Juve, dico alla Juve, di danni ne fanno tantissimi. E poi alla fine della partita si dice il contrario. Finalmente, una volta, c'è stata un'ingiustizia chiara, evidente, come secondo me c'era il fallo di mano di Borrucci in Inter-Juventus. All'epoca, siamo partiti. All'andata. Sì, 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 siamo parlati un girone fa. Per me il rigore è fuori dell'Inter, quello lì. Sì, 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 mi ricordo. Poi c'è fuori altre cose. Ma nessuno ne ha parlato. Sono queste le cose. Allora i, fra virgolette, napolisti, che continuamente, continuamente, con la solita cosa, la Juve-Ruba, la Juve-Ru... Vabbè, c'è una sorta di vittimismo tipico anche del rimoso riposo del Napoli. Questo vittimismo non li fa crescere. Non mi piace, bravo. Sono d'accordissimo con te. Sono d'accordissimo con te. Perché io detesto, un giornalista italiano lo detesto con tutte le mie forze, è Crosetti. Ah, è una buona prima firma. È una prima firma, anche prima firma. Voglio dire, Crosetti. Però ieri sera ha detto una cosa che mi è piaciuta molto. Che ha detto? Ha detto, la Juve non è uscita dall'Europa per colpa dell'arbitro, la Juve non vincerà lo Scudetto per merito degli arbitri. Un po' troppo tardi, sei punti di vantaggio. Staremo a vedere, staremo a vedere anche questi insidio. No, nel senso che se vince il Scudetto, non lo vince perché gliel'hanno fatto vincere l'arbitro, e in Europa non è uscita perché... Ciudo dicendo il fatto che quando c'è stato Napoli, si è visto una squadra che non regge le pressioni, perché era già nervoso prima il Napoli, al di là della partita brutta che ha fatto, meritando di perdere ad Udine, è una squadra che le sa reggere come la Juve, scusate, che non le sa reggere come il Napoli, perché semplicemente non ci ha abituato. Ha paura di troppa esaltazione a Buffon. Buffon ha sempre goduto di una mediaticità, quella parata è bella, la prima, però io non ho visto i fare uguali a Sportiello, a Marchetti, però quella parata di Buffon se ne è parlata per tre giorni, soprattutto a Scudetto. Ma la cosa è che sul gol del Milan ha fatto una papera colossale. Io l'ho azzardato sta cosa, però dice che era un po' vicino, era un po' vicino e il coppio di destra era forte, però nessuno dice perché Buffon, perché devono esaltare questo Buffon, che secondo me è più in margine che il portiere. Sono d'accordissimo con te, fa delle belle parate, però delle parate che fanno anche altri portieri di Serie A. Sergio, infatti di casa nostra, l'Agropoli vinceva, il tuo disco rosso ha funzionato di nuovo, disco rosso Reggio Calabria, però vediamo la schermata, grazie a Andre Giaccio dei risultati, Reggio Calabria Agropoli 1-2, gol di Manfrellotti e Brincito, quando lo sai questo Manfrellotti sta segnando sempre, buon per noi. Sarnese-Vibonese 2-0, la Sarnese non vinceva da parecchio, poi la Vibonese è una delle squadre più in forma, vittoria importante per la Sarnese. Leon Fortese, Sporting Club Barsala 0-0, ci sarebbe quasi da non vederlo perché la Fortese pareggia sempre. Il Nodo perde una grande occasione pareggiando in casa con la Palmese, verso una romana e nello esterale di Frattese ne parleremo, rinviata per infortuni dell'arbitro dopo un tempo però giocato ed era sullo 0-0. La Siracusa vince 3-0 a Roccella, la Gelbison si rialza e scongiura il pericolo, forse ancora, diciamo, retrocessione diretta vincendo 3-0 con lo Scordia, il Dottore batte la città di Gragnano e la Cavese, ne parleremo, perde 3-0 con Rende. Sergio, l'abbiamo visto anche nella tua trasmissione di lunedì, abbiamo visto le immagini, meritatamente, alla fine, poi magari c'è stato proprio un blackout della Cavese. Prima di andare a vedere le immagini dell'Agropoli, parliamo un attimo, giusto un infarinatore per questo risultato, te l'aspettavi, tu lunedì hai sentito anche mister Santosusso, ha detto chiaramente, mi verrebbe da dire due indizi, fate una prova, l'Agropoli spesso gioca meglio fuori casa, c'è da una spiegazione tecnico-tattica mister Santosusso, gioca sotto palla, quindi molto attenta, molto concentrata e sfrutta le occasioni che deve avere. Sì, io non mi aspettavo la vittoria, io ero convinto in un clamoroso disco rosso. Anche perché il Reggio Calabria aveva da perdere. E poi tutti quei spettatori, no, io non mi aspettavo questa vittoria dell'Agropoli, per fortuna è venuta anche in maniera rocambolesca, come vedremo fa poco dalle immagini, ma sicuramente è stata una partita giocata a Dendistretti. Hai parlato di vittoria storica tu? Eh sì, perché vincere sul campo dove si è esibito Pirlo, dove Moggi non ha mai chiuso l'arbitro negli spogliatori, voglio dire, perciò ho parlato di vittoria storica, perché comunque giocare su un campo come quello della Regina, ecco che stiamo vedendo appunto le immagini. Sì, le vediamo in questo momento, la prima occasione per la Regina, veramente al granillo di questa banda di ragazzini dell'Agropoli, ecco questo dovrebbe essere il primo gol clamoroso in generità della difesa e del portiere, ne approfitta Manfrellotti e porta subito dopo un quarto d'ora l'Agropoli in vantaggio. Prova a reagire la Regina, però in maniera, parecchie volte in casa ha avuto questi tipi, anche il portiere qua ha fatto una parata straordinaria, poi c'è stata anche l'ingegnuità dell'espulsione del loro giocatore al 29esimo, però sta di fatto che l'Agropoli fuori casa riesce sempre ad offrire prestazioni magari non eccelsi, però riesce sempre a portare i risultati, alcune volte addirittura... Qui c'è l'espulsione, qui c'è l'espulsione... Vedi Seracusa, guarda, mi sembra quasi la ripetizione del caso Cardinale, però molto più grave, perché lui si alza e gli rifila proprio un ceffuno... Poi glielo dà, il Cardinale non glielo ha dato all'epoca... Sì, bravo, infatti le immagini lo scaggionarono, tra l'altro proprio di Cilento Channel, non si arrende comunque il Reggio Calabria che da questa partita passava la sua andata ai play-off, anche in 10 uomini riesce a mettere in difficoltà l'Agropoli e questo è il secondo gol, altra ingenuità, infatti ho fatto una battuta nella tua trasmissione, tra l'altro c'è un lungomare bellissimo a Reggio Calabria, cosa che non mi aspettavo, penso che il portiere della regina non si vada a prendere il gelato la sera, perché immagino gli improperi, non ci sta ancora la regina e subito accorcia le distanze, hai visto un'ingenuità del portiere qui su questo... sembra la fotocopia del gol del Mina. Esatto, però la palla gli è rimbalzata male, come dicevi tu in trasmissione lunedì, credo che un po' di colpina ce l'ha, però per carità, per me è uno dei migliori portieri in circolazione, Polverino, è stato una delle colonne di questo Agropoli, un portiere Sì, una rivelazione, anche perché non era partito, con l'Agropoli c'era un altro portiere che tu non è che stimavi eccessivamente, tra l'altro aveva preso anche qualche gol un po'. Rocambolesco, Sergio, però dopo questa vittoria, pur tu sottolineando l'importanza, hai detto c'è ancora da pedalare, non ti sei entusiasmato eccessivamente, ci motivi questa tua... Uno dei motivi poi te lo dico in privato, però uno dei... soprattutto riguarda la mancanza di concentrazione, se viene a mancare la concentrazione poi vengono a mancare le gambe e in queste quattro partite non bisogna assolutamente mollare la presa, io credo che gli scontri diretti la faranno da padrone, una vittoria se ci dovesse essere contro il noto... Approfittiamo delle parole di Sergio, mandiamola nel prossimo turno, poi vediamo la classifica, quindi ci facciamo un'idea un po'... Vediamo anche la Gelbison poi dopo... Assolutamente sì, no, giusto perché stai dicendo gli scontri diretti, vediamo un attimo Alla vedere fino alla fine, fino alla fine ci sono dei scontri diretti che sono... Anche sia in testa che in coda... A parte, bravo, sia in testa che in coda... Questo è il prossimo turno... Sergio, c'è già il bisogno di Agropoli... No, no, non vedi che c'è Agropoli in noto... Ah, certo, certo... Questo è il 24 aprile, bravo... No, ho fatto bene perché questa mi serve... Questa qui... Bravo Andrea... Questa qui è, diciamo, la giornata in cui l'Agropoli può temere di più... Dici? Io me lo sono studiate tutte quante... Ah, dimmi... Marsala, che per il Marsala potrebbe essere un turno favorevole... Leonfortese-Vibonese... E per la Leonfortese potrebbe essere un turno favorevole... Io ritengo che la maggiore indiziativa... Bravo, tu hai detto che la Leonfortese non è che rischia... Poi c'è... Cosa impensabile fino a qualche domenica fa... E poi c'è... Roccella-Nerazzurri-Stellate... I Roccella a 38 punti ed è un calendario difficilissimo... È vero, è vero... C'è una delle prime... Tutte quelle che la precedono in classifica nelle ultime giornate... Quindi sembrava fuori, diciamo, dalla lotta a Salvezzi... Invece si è... Se adesso vediamo quella di domenica prossima... Una vittoria dell'Agropoli... Quella di domenica... Del 17 di aprile... Poi magari la vedremo più tardi... Quella lì potrebbe essere una giornata decisamente... Però l'Agropoli se dovesse vincere... Ma anche con un pareggio... Tra l'altro l'unica cosa brutta è che il Noto... Avendo pareggiato, stava vincendo... Si è inguaiata... Quindi ha 36 punti... Quindi verrà ad Agropoli, diciamo... Con l'intento di fare punti... Mi preoccupa una cosa... Sai che cosa mi preoccupa? Mi preoccupa la grande contestazione che ieri c'è stata a Noto... Vediamola la classifica, Sergio, per avvalorare le tue parole... Quindi, bravo, dimmi questa notizia che non si sa ancora... La diamo come... Quando il Noto ha pareggiato sul campo della Frattese... C'era una grande contestazione... Fese una grande partita la Frattese... A Noto a fratta maggiore... Ieri è stata contestata il Noto... È stata fortemente contestata dai sostenitori... Società ai giocatori... E allora io... Questo mi preoccupa... Mi preoccupa questa contestazione che c'è stata... E questa concentrazione con la quale il Noto verrà a giocare ad Agropoli... Tra l'altro una squadra degli ottimi valori tecnici... Prendo spunto dall'intervento di Santo Sosso di Lunedini nella tua trasmissione... Disse... Va bene anche un punto... So che non è la tua filosofia... Però... Questa volta... Mi sei sembrato più possibilista... Ma sì perché con un punto innanzitutto si cammina in classifica... Adesso sì... Poi tieni il Noto lo mantieni a due punti e deve ancora riposare... Quindi paradossalmente... Avendo vinto a Noto l'Agropoli... Mi pare che vinse a Noto... L'Agropoli a Noto... Non ho perso... Perse a Noto... Comunque... La bestia mera dell'Agropoli... Comunque... Lo manderebbe a tre punti con un altro pareggio... Il Marsala tiene la cavese... Deve riposare... Sì... E quindi il Marsala è inguaiato... Sì la maggiore indizia... Il problema... Il problema è mantenere i due o tre punti... Quelli... Sì però c'è quel quartetto a 38... Tra Rende che non si aspettava che vincesse a Cava... C'è il Rocella ancora a 38... L'Agropoli... E poi mi sfugge eccolo qua... Sì tre squadre a 38 punti... A 39 c'è la Leonfortese che Sergio dice che rischia molto... Rende Agropoli e Rocella... Facendo un rapido raccolto che il Marsala... Avendo questo calendario non riuscisse a... La Palmese... E manca giusto una o due squadre per andare... No... Diciamo che la quarta è il Marsala... Facciamo conto... Tra Rende Agropoli e Rocella è noto... Una va ai play out e le altre si salvano... Secondo te? Però c'è anche un altro aspetto... Dimmi... L'Agropoli o il Rocella o il Rende... Se hanno... Sette punti in più rispetto... Ah sì certo... A esempio alla Germi sulla Palmese... Alla terz'ultima... Non si fanno i play out... Quindi attualmente non si farebbero... In questo momento non si fa il play out... Sì e quindi... La vittoria di domenica è una vittoria importantissima se dovesse arrivare... È la partita del... Diciamo dei quattro anni di Cerruti... Bravissimo... Dopo tanto... Dopo un anno in cui si è tribolato... Questo qua... Il punto qua... Il punto qua... Veramente l'Agropoli ha l'occasione di chiudere i giochi... Qualcosa che fino a mesetto fa magari era proprio impensabile... Per una salvezza diretta che sarebbe di miracoloso... Nel caso di esito positivo... Salvezza diretta... Sergio... Di chi sono i meriti... Dove si è distinta l'Agropoli in maniera positiva... Facciamo arrivare prima... Io ancora non ci credo... Io nel calcio sono abituato a grandi sorprese... Vediamo la partita di domenica... Poi ne parliamo... Poi ne parliamo... Parliamo di questa cosa... Ma io credo che assolutamente... Ancora non bisogna parlare di salvezza... Tra l'altro vedo il marcatore del noto... Che è Mosciaro... Che è un signor giocatore per la categoria... C'ha Fica a Rotta... C'ha altri giocatori di noto... E' veramente da prendere con le molle... Però abbiamo sentito Santo Susso... Lo sa... Lo sa... La Palmese... La Palmese... Ecco la partita di domenica prossima... Grazie Andrea... L'ha recuperata in tempo di record... Gragnana verso Normanni... Il Gragnana... A che secondo te rischia... E so perché ha 39 punti il Gragnana... Abbiamo sentito nella tua trasmissione... L'alleatore della versione romana... Ci crede maledettamente... E' pleosso quindi... E quindi vuole andare a vincere il Gragnano... Il Gragnano deve stare attento... Perciò domenica è una partita importantissima... Certo... Perché laddove dovesse vincere l'Agropoli... Potrebbe se non vince... Superare anche il Gragnano... Addirittura... E' vero... E' un guaiare... Magari Leonfortese e Gragnano che sembrava non fuori... La Leonfortese... Domenica prossima... Giocherà sul campo del Siracusa... Perde... Certo... Oppure tenterà l'ultimo guizzo per magari... Ma a Vallo sono convinti che si salvano... Che si salvano in maniera diretta... Poi quando parliamo della Gelbis... Sì fra poco... Scordia due torri... Lo Scordia giustamente si giocherà le ultimissime carte... Marsala Cavese... Secondo te la Cavese... Sarà tramortita da quello che... Ma questa è una partita... Ci sono giunte voci dall'ambiente cavese... No... Non ho solo grande contestazione che c'è stata... Però niente di particolare... In ogni caso credo... Assolutamente che... Marsala Cavese... La Cavese deve fare il risultato... Ma è l'unico chance per riuscire a pensare... È stato pieno... Ma anche... Sì... È stato pieno... Sì perché poi la Frattese dovrà recuperare... Poi si sarà... Entro 15 giorni la Frattese è recuperata... Marsala se non vince questa partita... Secondo me rischia addirittura... La retruzione diretta... 36 punti... Se mi dai un attimo ancora la schermata Andrei... Perché ci sono altre due partite interessanti... Che volevo far... Verire a Sergio... C'è... Vabbè... Corpo di Noto... Siracusa Leonfortese... Palmese e Gelbis... Sono lo Scordia... Il Marsala... Vibonese-Rocella... La Vibonese si vorrà rifare... E poi... Vibonese-Rocella è un'altra partita importantissima... Certo... Perché la Vibonese deve andare nei play-off... E il Rocella ha 38 punti... Come Agropoli e Rende... Quindi avevi ragione che il Rocella ha un calendario terribile... Terribile... Adesso non ce li ho so... Sto cercando di vederlo qui sul mio iPhone... Ma non trovo le partite... Sono andato su IM Salerno... Che di solito ha tutto il calendario... Ma non lo trovo... È un po' difficile... E poi ci sta Rende-Vigor-Lamezia... Alla fine il Rende, che sembrava quella più in difficoltà... Con la vittoria di Domenico con la Cavese... È un turno favorevolissimo... La vittoria a Cava la fa salvare totalmente... È vero... E già salva il Rende... È vero... Ah, bravo... Mi piace che sia sbilanciato... Però effettivamente... Anche perché ha una buona squadra il Rende... Quindi... 38 e 3, 41... Toglila di mezzo il Rende... Toglila di mezzo... Cioè a questo punto, come d'incanto... L'Agroppoli... Se dovessi dare delle percentuali... No, non voglio... Al Rende do il 95% di salvezza... L'Agroppoli non lo so... Perché non mi fido... Dipende da Domenica... Tu dopo Domenica... Non mi fido dell'organico dell'Agroppoli... Ma tu immagini a sé... Domenica il noto vince ad Agropoli... In guai all'Agroppoli... Supera l'Agroppoli... Vero... La supera in classifica... Quindi perciò... Contro il colpo psicologico... Perché poi l'Agroppoli va a Vallo della Lucane dopo... Sì, Sergio... È una giustissima l'analisi tua... Perché se per caso non dovesse succedere... Non succederà... Però se dovesse... Veramente sarebbe... Un peccato è con la trasferta di Vallo... Dove il Vallo magari fa risultati a Palma... Comincia a crederci un'altra volta pure il Vallo... Il Gelsen... Da quando ha mandato via Pirozzi... Sta facendo ottimi... Veramente buona la vittoria di 3-0... Ma ce l'abbiamo... Ce l'abbiamo... Lo commentiamo insieme... Una vittoria che vale più... Per i tre punti... Per il punteggio... O secondo te per il morale? Per tutto... A questo punto per tutto... Quindi rilancia la Gelbison in un chiave play-out... La rilancia in maniera clamorosa... Nonostante il grande freddo tra il capitano e l'allenatore... Mandato in tribuna Pecora Domenica... Ah! Questa è una cosa che ci dici... Sì... Ma di disciplinare... Non si sanno... Comunque fra i due non corre buon sanque... Tra Pecora e... E lo stesso... Mister Pepe... Questo vediamo l'Euroball... Il primo della Gelbison... Di Marmore... 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 Un ragazzo molto talentuoso... Si... Si fa lunga bene... Subito il... De Luca... A fine primo tempo... Bravo... Bravo che mi dici i marcatori... Perché non... Poi segnerà ancora De Luca il 3-0... Quindi una partita senza storie... Una prova... Magari forse Mister Pepe ha trovato la... Poi una squadra motivata... Una squadra viva... Quindi questo è un segnale importante... Anche in un'ipotetica coda play-out... Sicuramente io credo che la... Dovrebbe diventare la polemica con Pecoras... Perché Pecoras... Poi tra l'altro è uno che ha retto... Costretto a fare che cosa? Costretto a mettere Manzillo difensore centrale... Che è un ottimo centrocampista invece... Perché... Vediamo il terzo gol intanto nelle immagini... Ha dovuto mettere Manzillo centrale difensivo... Magari si fa del male da solo... Mister Pepe potremmo anche favorire questo rientro di... Magari dopo l'Agropoli... Se è un giocatore così importante... Anche perché Pecora ce l'ha con l'Agropoli... E allora potrebbe anche trascinare l'ambiente... Ci sarai tu a ballo a vedere... No, no, non vado a vedere a ballo la partita... Sono impegnato, sono impegnato... Ah, certo, 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 sicuramente... Se no sarei andato volentieri... Sarebbe... Sarà chiuso ai tifosi ospiti sicuramente... Però... Certo, però ai giornalisti no... Quindi... Eh, appunto... Non vado per altri motivi... E quindi... Ti ho fatto la domanda... Va bene, abbiamo sviscerato l'argomento Agropoli... La Gelbison si rilancia... Domenica una partita importantissima a Palmi... Potrebbe vincere... Allora, questo finale di stagione, in questo girone I... È particolarmente entusiasmante rispetto agli scorsi anni... È vero... Si immagini che... Questo Siracusa... Che sembrava quello un po' più zoppicante... Con quella vittoria di domenica... E poi c'è la frattese che deve ancora recuperare con la versione ormai... Noi andremo a vedere la partita... Assolutamente sì, è un pazzo, è stato gentilissimo il suo allenatore... Però è una partitaccia... È una partitaccia, però decide il campionato... Certo... Anche perché... La Cavese... Avrà due partite in casa... La terz'ultima e l'ultima... Con Siracusa e con la frattese... Con la frattese... Con le altre due consorelle del vertice... Diciamo che se la Cavese riesce a fare bottino pieno domenica prossima con il Marsala... Se la può ancora giocare... Avendo proprio questi scontri diretti... Però attualmente... Vediamo un attimo la classifica nella parte alta... Sergio... Chi vede il Siracusa leggermente favorito... Alla luce anche dei risultati della partita rimandata... Sono segnali questi magari di un... Dipende molto da domenica... Eccola qui... Vediamo che è 66... Io ancora non do il Siracusa vincente... Domenica... Se il Siracusa dovesse vincere con la Leonfortese... E la Cavese non vince a Marsala... Fuori uno... Fuori uno la Cavese e va fuori... Ma se invece rimangono i tre punti... Ancora di distacco... Con lo scontro diretto dove giocare a Cavaliere Ireni... Io credo che ancora... Certo... È tutto in gioco... Giustissimo... E domenica se la Cavese dovesse vincere sul campo del Marsala... Di fatto decreta la terza... Pleautista... Come si dice... Sì sì sì... La terza candidata dei Pleauti... Ma è stata nominata... Diciamo la terza... Il Marsala... Nominisce... Perché avrà soltanto una giornata... E non potrà arrivare più... E permettimi di dire... Perché poi riposa... Una così nel Marsala... Una squadra... Molto ben superiore all'Agropoli... Quindi l'Agropoli... Veramente si tratta... Non voglio dire il miracolo... Perché veramente hanno... Sono stati... Sono tutti stretti... Se sarà salvezza... Come ci auguriamo tutti quanti... Veramente è stato... Un miracolo sportivo... Con ragazzi... Veramente poi a un certo punto... Quando ci furono quelle nove giornali di squalifica... Sembrava tutto perduto... Invece ha reagito alla grande... Veramente... C'è da fare solo applausi... All'Agropoli in toto... Fra l'altro... Fra l'altro... Un intero... Panorama calcistico direttante... Cerca Santosus sulla panchina... Addirittura... Però tu ne hai annunciato il ritiro... Speriamo... Allora... Santosus già tre anni fa disse... Non alleneva più... Adesso lo troviamo sulla panchina... Ma tutti vogliono... L'ultima voce... Non so se la sai... Poi se... Vai vai... Non lo so... Dici... E la Gervison che sarebbe proprio... Vabbè... Santosus è ex di tutte le squadre... Però la Gervison... Ora si è fatta via la Gervison... Che assolutamente vorrebbe Santosus... C'è anche un progettino... Magari per il... Quando finirà il campionato... Teremo informati i nostri... Che si sentono voci già belle... E non solo dell'Agropoli... E delle altre... Poi vi faremo sapere... A tempo... A tempo debito... Con la speranza che si tiri fuori... Da questi play-out... Perché se no sarebbe terribile... Sarebbe... Sì... La quota play-out... Poi vi giochi tutti in due partite... L'Agropoli ha già affrontato un play-out... Ne è uscita brillantemente... Col Sambiasi... Non so se ti ricordi... Due a due lì... Poi in casa si perse... Poi c'è un... Bellissimo... Quello... Gianmarco Landolfi... Che si fece male... In ambulanza... Che deve il risultato... Cose davvero... Bellissime... Là si salvò l'Agropoli... Con il Sambiasi... Però... È meglio non correre il rischio... Perché nella partita secca... No assolutamente... Può accadere... Può accadere di tutto... Chi giocherà... Bongerminio o Manfrenlotti... Domenica in realtà... Bongerminio è rientrato... Magari tutti e due... Secondo me... Se la gioca... E se Capozzoli... Rientrerà... Lo dico col sorriso... Tanto tu giovedì... Pascola e Santo Sosso... Ti chiami e ti dice la formazione... Quindi... Ti dirai tutto... Magari venerdì... Non so se scherziamo... Santo Sosso... Si denis sui segreti... Poi c'è sempre... La sorpresa... Bellissima... Come ha detto Sergio... Il campionato... Mai così incerto... Negli ultimi anni... Dove... Una volta l'Agracassi... Una volta l'Assa a voglia... Fecero il buto... Addirittura tre squadre... Che si giocano il campionato... Bellissimo... Sotto... Ancora peggio... Cosa che si sta... Se sta verificando... Anche il G1H... Sì... Vero... Con Virtus Francavilla... Taranto... Che non... Magari la prossima volta... Analizziamo pure il G1H... Perché è veramente... Molto interessante... E va uno in codo... Il Picerno spacciato... Risca addirittura... La salvezza diretta... Il Picerno che ha girato... A fine giornata... A quattro punti... Adesso si gioca la salvezza diretta... Senza nemmeno passare play out... Interessantissimo... Mi ha dato un'idea... Martedì prossimo... Analizzeremo anche... Il G1H... Bene... Abbiamo parlato riccamente... Della Serie D... Ne valeva la pena... Abbiamo commentato le immagini... Passiamo all'eccellenza... Con i risultati dell'ultimo turno... Sergio... Qui si attende solo... La matematica... Manca un punto... Alla città di Nocero... È un peccato... Magari che... Non possa festeggiare davanti... I suoi tifosi... Però c'è da giurare... Ma è importante che vince... Stato di Nocero a 3 a 2... Abbiamo visto le immagini... Nella sua trasmissione... Anche un po'... Diciamo... Soffertina... Perché era andato in svantaggio... Addirittura... Diciamo che... Adesso l'effetto psicologico... Si fa sentire... Quindi... Quindi pensi che sia un campionato meritato... Non meritato... Meritatissimo... Un po' buttato dal Sant'Agnello... Che secondo me... Vincerà i playoff... E andrà... In serie... Playoff... Sempre si disputeranno... Vediamo... Ma si... I playoff andano con quelli dell'altro giro... Ah si... 77... Bravo... Sì... C'è da vedere... Secondo me questo è il giro più forte... Magari... Nelle prime due... Vediamo 74 punti... 19... In questo giro... Qui non si faranno i playoff... Non si faranno i playoff... Si faranno i playoff... Però andrà a fare... Andrà a fare lo spareggio... Con l'altra seconda dell'altro giro... Del giro ne ha... Sì... Che mi sembra fosse la sessana... No? Quello non lo so... Perché non ci arriviamo ancora a quell'attitudine... Però se Andrei mi dà... Un attimo la schermata sui risultati... Ti voglio far vedere... Voglio corroborare il tuo discorso... Sul fatto che... Se guardi i marcatori del Sant'Agnello... O Football Club Sorrento... Come la dicitura Isat... Del Sorbo... Vitale... Vitale... Del Sorbo... Una squadra del genere... Le vince... Le partite... Anche se la sessana è una squadra... Se fosse quella... Una squadra veramente... Diciamo insidiosa... Seconda vittoria consecutiva... Dell'Ebolitana... Che doppietta di Sani... Uno dei tuoi pupilli... Diciamo un giocatore per cui tu... Tecnicamente stravedi... Esatto... Sì è vero... E quindi... Salvato anche... Con l'arrivo della primavera... E' ritornato Sani... Sì... Soprattutto perché l'Ebolitana... Non avendo più niente a dire al campionato... Sani o Sciani... Ma... Chiederemo... Visto che abbiamo anche il numero di telefono... Chiederemo... Siccome si... Prefigurava un'agonia... Voglio chiamarla così... Dell'Ebolitana... Da qui a fine del campionato... Queste due vittorie magari... Danno un senso... Ma che magari... Si dice che l'Ebolitana... L'anno prossimo avrà un progetto... Molto molto importante... Vediamo la classifica... Del Capriolino... Da parte bassa... Perché quella alta... Già l'abbiamo... Vista... Con la Montesarchio... Ci sarà... Bella questa lotta... Tra San Vito Positano e Montesarchio... Perché arriverà... Seconda... E che serva niente... E che serva niente... Lo so... Vediamo che nelle zone basse... Si è inguaiato notevolmente... Il Valdiano... Che le sta perdendo troppe partite... Anche in casa... Quindi questo... E' importante... Massalo Brense 26... Santomaso 32... Diciamo che le ultime quattro squadre... Sono un po' distaccate... Qui scende una sola... E quattro fan di play out... Si... Una sola... E quattro fan di play out... L'ultima... Comunque... Avrà vita sorridente... Perché c'è sempre il fatto... Di immobile... Di immobile... Che Sergio ci ha detto... Questa primizia... Va bene... Passiamo alla promozione... Dove la... Adesso ti faccio divertire un po'... Perché dobbiamo fare un paio di calcoli... L'ho fatto in radio... Lunedì nella mia trasmissione... Mi sono un po' confusa... E mi hanno detto... Vediamo i risultati... Della campionata di promozione... Dell'ultima giornata di promozione... Ennesimo pareggio della Posenza... Per 0-0... Infatti... Tantissimi... La squadra che ha pareggiato di più... Nel campionato... Risorge il vitico del Castellavate... Di mister Cianfrone... Batte ad uno... Il Sassano... Si rilancia nella corsa... Salvezza... Oramai il... Il... Il Picciola... Fa regali a tutti... Perde anche i casi con le Ponte Cagnate... Da due settimane che ha vinto il campionato... La Gifonese batte 2-0... Il Canalonga... Molto importante... La vittoria in chiave salvezza... Crollo della Calpazio... Che addirittura... Ti farò vedere la classifica... Sergio... Ti fai due risate... La Calpazio... Se vinceva domenica scorsa... Era quasi matematicamente... Nei play-off... Guarda adesso la classifica... Non vedo la... La versione ha fatto uno con il sigo... Uno con il Buccino Volce... Che è un punto molto importante... Vediamo un attimo la classifica... Nella parte alta... I play-off si disputeranno... Per il crollo del Santa Maria... Nelle ultime giornate... Il Salerno... Nella grande ascesa... Gifonese... Pandole... Temerare... Si giocheranno l'ultimo... Posto play-off... Con uno scontro diretto... Ci sarà proprio... Tra la Temerare... Poi vediamo il prossimo turno... Vediamo però la parte bassa... Della classifica... Perché la zona di gestione... È veramente interessante... Questa classifica è cortissima... Costa la Maffi 38... Calpazio 37... Addirittura... Doveva andare nei play-off... Adesso è un punto dalla Poseidon... La salvezza... Scende solo l'ultima... In classifica... Quante le mancano qua? Una... Una... Quindi la prossima... Giocheranno... Santa Maria... Poseidon... Però... Per un calcolo delle probabilità... Per la classifica... Vulsa... La Calpazio... Anche se... Vincendo il Buccino... L'aggancerebbe... È già salva... La Calpazio... La Calpazio... La Poseidon serve un punto... Vediamo il prossimo turno... Chi gioca la Santa Maria... La Poseidon... Con un punto... Il Santa Maria... È matematicamente secondo... E la Poseidon... È matematicamente salva... È un pareggio... Speriamo che ci sia... Il fatto di Pasquale... Do sostenere la telefonata... Poi... Ne parliamo... Sassano Picciola... Partita molto importante... Per il Vigor... Che ha celebrato... Che gioca con la Calpazio... Calpazio già salva... Il Vigor si deve... Deve vincere... Per salvarsi... Veramente una... Ultima giornata... Molto interessante... Con tanti predetti ancora... Da emettere... Il Buccino Volce... Deve assolutamente vincere... Con il Bic Salerno... Che a sua volta... Cercherà la vittoria... Per magari... Evitare l'ultimo... Vossi in classifica... Possiamo vedere... Un'altra volta... La classifica... Nella parte bassa... Del Real Ponte Cagnano... Mi interessa... Real Ponte Cagnano a 33... Quindi da fare il play out... Sì... Questo si sa che significa... No... Significa che... Per la Battipagliese... Si complica tutto... Perché la Battipagliese... Deve prendere... Il titolo del... Presidente... Del Real Ponte Cagnano... Che sarà poi... Il Presidente della Battipagliese... E giocherà con il... Costa da Malfi in casa... Acquisti questa primizia... La butti così lì... No no... Ma ormai si sa questa... Ah ormai si sa... Lo saprai tu... Sì sì... Il Presidente del Real Ponte Cagnano... Cederà il titolo alla Battipagliese... Ah quindi... Il Presidente... Però... Da che categoria... Dalla promozione... Però se perde il titolo... Si va in prima categoria... Come si fa? Infatti c'è tutta la Battipaglia... Che tifa per il Real Ponte Cagnano... E magari... Un bel tifo... Domenico... Il Costa da Malfi... Con una scuola... Tra l'altro la prendere... Anche con le molle... Benissimo... Era veramente interessante... L'ultima... Di promozione... Abbiamo visto le classifiche... Staremo a vedere... Speriamo a questo punto... Siccome ci interessa anche la Battipagliese... Sperando che il Real Ponte Cagnano... Si salvi... E quindi magari... Questo foto del titolo... Quindi ricomincierebbe dalla promozione... Poi la Battipagliese... E già è tutto fatto... Dalla promozione... Sì... Però adesso... Si sono un po' raffreddati... Perché... La squadra se ne play out... E allora Battipaglia... Speriamo poi che si prenda... L'aluminazione di Battipagliese... E non quei nomi strani... Già sai Sergio... Una tua vecchia battaglia... Una nostra battaglia... Sul fatto di non cambiare i nomi... Va bene... Abbiamo esaurito il discorso calcio... Anche perché la Real Aversana... Poteva cedere il titolo... Sì... Giustamente... Perché poi ne parleremo nel nostro... Savottini e Stivi... Vediamo un po' il basket... Sergio... È importante... L'idea del risultato... L'Agropoli vince 80-82-80... Con Casalmoferrato fuori casa... La notizia è che l'Agropoli... Matematicamente nei play off... Quali sono le prospettive... Cosa aspettarsi... Un'analisi del campionato dell'Agropoli... Questa è la classifica... È un campionato in cui l'Agropoli... A 32 punti... Ha fatto il massimo... Vincendo a Casale... E prendendoci... I complimenti pubblicamente... Del coach avversario... La squadra è stata sempre avanti domenica... Poi... All'ultimo istante... Stava per perderla... Perché un tiro da tre... Non è finito dentro... Se non l'avesse persa... Non sono mai finite le basket... E allora... È stato un campionato... Fino a questo momento strepitoso... Domenica ci sarà... Il saluto finale... Il 17... Si gioca alle ore... 20... Al palazzo dello Sport di Concilio... Fra l'altro... Diciamolo pure... C'è una iniziativa di Tavernari... Che non giocherà perché è infortunato... Tavernari... Ha fatto una... Diciamo... Una raccolta di... Fondi... No... Di... Fondi... No... Di... Oggetti igienici... Tra dendifricio... Sapone... Per i rifugiati politici in Sicilia... Bellissimo... E allora... È un'iniziativa... Che dovrà coinvolgere il pubblico... Perché tutti possono portare uno spazzolino... Ah... Un sapone... Tipologia proprio... Quel tipo di oggetti... Spazzolini... Sono quattro oggetti di... Fanno schiuma... Esatto... I igienici... Shampoo... Queste cose qua... Si possono portare... Quindi nemmeno... Diciamo di una sborsa economica eccessiva... Quindi ognuno può portare il suo... Una... Saranno delle busse che poi saranno inviate... Però si partecipa anche ad una... Come si dice... Ad una... Ad un sorteggio... Si compra il biglietto di 5 euro... E si vince tra il primo e il secondo tempo... Tutta la divisa di Tavernari... Che bello... Bravo... Andranno appunto... Per comprare... Roba igienica... Per i rifugiati politici... In Sicilia... E sono... Insegnanti... Bambini... Professori... Giornalisti... Medici... E' importante... Veramente una cosa molto molto bella... Sensibilizzazione generale... Bravo Tavernari... Complimenti da noi... Però... Poi l'Agropoli affronterà i playoff... E ancora non si sa... Ecco... Io questo ti volevo chiedere... Novità? Sul caso Cipova... Sul palazzetto? Si giocherà a Scafati al momento... Perché questa è la sede... Data all'inizio del campionato... Una buon battaglia sul palasele... Bisognerà vedere... Eboli metterà a disposizione il palasele... E tutti quanti premono per il palasele... La società dell'Agropoli... Sta appalizzando anche il palazzauro a Battipaglia... Che sarebbe... O porcè idoneo... Vedremo... Quantunque... Va in archivio un campionato strepitoso... Da parte di Agropoli... Perché... Anche perché era partita alla grandissima... Poi ha avuto una flessione... Che ci ha fatto quasi temere un po'... Anche tu avevi detto... Quella mini crisi che ha avuto... E poi però si è brillantemente ripresa... Nonostante i grandi infortuni... Certo... Che ha avuto durante il corso della stagione non ultima... Quello appunto di Tavernari... Ma ha dovuto subire... Quello di Spizzichini... Ancora prima... Quello di... Roderick... Insomma... Non è stata una... Una grande stagione sotto l'aspetto degli infortuni... Però è stata una grande stagione sotto l'aspetto del risultato... Del prestigioso traguardo dei play-off... Che ha raggiunto... Cioè... Noi stiamo parlando di una squadra... Che ipoteticamente può andare in A1... Certo... La Serie A1... E vince i play-off... Vai in A1... Certo... Poi a quel punto il palazzetto subirà un'accelerata... E vedremo... Vedremo questi problemi di dove giocare... Però... Non... Meglio dire... Non vogliamo con... Non mettiamo il capo... Con le idee con le cervelle... Adesso perché... Ti faccio vedere l'ultima schermata che riguarda la Cilento Basket... Perché è molto carina... Grazie... Campioni... Effettivamente... Questa bellissima grafica... Sul fatto che l'abbiamo fatto un campionato straordinario... Ha vinto il campionato di Serie C Silver... Ha vinto la regular season... Però... Ha vinto adesso dal primo maggio... Ecco... Da c'è le date... Comincia il primo maggio... I play-off... È un girone a quattro... Con le squadre della Carabria... Della Puglia... E della Sicilia... Per cui... Per cui... Agropoli affronterà la squadra pugliese... In casa... Il giorno... Primo maggio... Il giorno del primo maggio... Credo alle ore 18... Alla palla di concilio... Grazie Sergio... Sempre in formatissimo... Diamo solo la schermata del volley... Per dire il prossimo appuntamento... Si giocherà il 17 aprile... Le ragazze del volley... Puntono a finire bene il proprio campionato... Giocheranno con la Reginal... Regital albatese... Si sono dopo un periodo nerissimo... Che è stato quello invernale... Con la primavera sono riferite anche le ragazze della volley... C'è da sperare che... Facciano un finale di campionato... All'altezza... Siamo in chiusura... In chiusura ti devo dire una cosa... Di grande curiosità... Assolutamente sì... Allora oggi... Sono sei anni esatti... In cui l'agropoli di basket... Vinse il campionato di Serie D... Era il 12 aprile del 2010... Dalla Serie D... Passò alla Serie C... Immagina... In questi anni... In questi cinque anni... Quanto è arrivata in Serie A... In Serie A 2... Però... Oggi è il giorno del 6... Se si considera... Che... Per esempio in Serie A... La Juventus ha sei punti... Sul Napoli... Il Napoli ha sei punti... Sulla Roma... La Roma ha sei punti... Sulla... Sull'Inter... Sull'Inter... E fra l'altro... Il Basket Agropoli... Ha sei punti... Sull'ultima... Dei play-off... Te ne butto un'altra... Per la scelta... Del nome della piscina comunale di Capaccio... C'erano sei nomi... Ha vinto tra l'altro... Piscina Poseidone... Sai che numero è? No... Il numero del diavolo... Sei... Sergio... All'ultima mi butti la bomba in mezzo ai piedi... Non me lo far pronunciare con i numeri... Che queste cose... Ci credo... Ti faccio l'ultima domanda... E poi chiudiamo... Risposta abbastanza rapida... C'è da augurarsi un fallimento dell'Italia europea... Per azzerare totalmente i vertici? No... A me non mi interessa... A me mi interessa soltanto... Che l'Italia perda... Ma non soltanto... Per certificare il fallimento... Diciamo di l'Italia... No... No... Io sono contro l'Italia... A tutti i livelli... A tutti gli sport... Dal ciclismo... Al rugby... Al calcio... Al basket... L'importante... Che perde l'Italia... Bello... Con queste nuove amicizie che si è fatto Sergio... Sicuramente con questa affermazione... Ma io non sono ipocrita... Guarda... No... Per carità... Guarda... Io oggi... Su Facebook... E su Twitter... Ho postato una frase... E la posso confermare qua... Dicendo... Massimo rispetto... Per la morte di Casaleggio... Ci mancherebbe altro... Però è stata l'invenzione di un movimento di delinquenti intellettuali... Quali i Grillini... Va bene... Con quest'ultima affermazione... Io ringrazio André Giaccio in regia... Raffaella Giaccio come supporto tecnico... E con voi... Se vorrete... Ci vedremo sabato prossimo...